Sottosegretario Martini, quali sono le sfide per il sistema sanitario in questo 2010? Dopo l'approvazione dello straordinario federalismo fiscale grazie a una lega che riesce a incidere davvero sui programmi di governo, oggi l'attuazione del federalismo fiscale e quindi l'emanazione dei decreti attuativi sarà quello che ci permetterà di parlare ancora di un servizio sanitario nazionale in quanto tale. Oggi la grande sfida vuol dire far sì che le regioni che hanno l'equilibrio di bilancio e che hanno un buon servizio sanitario regionale, che rispondono ai bisogni dei cittadini e queste regioni le conosciamo, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, tutte quelle regioni dove oggi la Lega è impegnata, peraltro è una tornata importantissima per le elezioni regionali che ci vede con due candidati presidenti come Zaia e Cota, sarà fondamentale permettere a queste regioni di riuscire sempre meglio ad organizzare il proprio servizio sanitario in equilibrio di bilancio e andare avanti con quei piani di rientro e l'attuazione dei costi standard che sono quelli che fanno sì che dal Lazio in giù in realtà la sanità abbia buchi da tutte le parti. Penso alla Calabria con i suoi 2 miliardi di euro di buco e i più di 200 milioni strutturali annui, penso a Lazio, penso alla Campania, ovviamente oggi la grande sfida è riuscire a regolare la spesa sanitaria per queste regioni offrendo ai cittadini davvero un servizio sanitario che possa chiamarsi tale. Continua anche la sua lotta per la tutela degli animali? Sì, attraverso la medicina veterinaria in assoluto siamo in prima linea contro il maltrattamento e quei canili lager che peraltro sono proprio in quelle regioni dove anche la sanità è molto problematica ma ricordo alcuni aspetti importantissimi come i rapporti con le regioni, ricordo la riabilitazione che è un tema fondamentale perché oggi se parliamo di un'altra sfida importante del servizio sanitario del nostro paese dobbiamo parlare della longevità, quindi della possibilità di continuare a vivere ma a vivere in salute e la domanda di riabilitazione è senz'altro ampissima perché c'è un aumento della cronicità e davvero un bisogno di rispondere a esigenze mutate che guardano all'assistenza territoriale quindi l'assistenza sanitaria di base, incremento della medicina territoriale e il riequilibrio della spesa tra ospedale e territorio che sono e diventeranno sempre di più un'emergenza.